Il sindaco di Vaan Maurizio Bevilacqua ha espresso la sua opinione dopo l'annuncio del governo dell'Ontario in merito alla situazione pandemica della regione di York e le nuove misure di contrasto al coronavirus adottate. Ma credo che non ha avuto una scelta. Ovviamente il Premier ha deciso di prendere questa decisione basata sulle statistiche che sono state presentate da lui, dai vari enti governativi che si impegnano proprio per cercare di ridurre la trasmissione del Covid-19. Secondo me è una scelta che indica che infatti la sanità, la salute dei nostri residenti è la cosa più importante. Ovviamente è sempre difficile bilanciare un po' l'aspetto della sanità, della salute dell'individuo e anche dall'altra parte l'impatto sull'economia, sui posti lavori, sulla crescita economica. Non è facile, però alla fine dei conti non possiamo permetterci il lusso di trasmettere, di continuare ad avere questi numeri, gran numeri, di persone con il Covid-19 perché aveva un impatto alla nostra società, alla nostra comunità. Allora credo che il Premier ha esaminato un po' i suoi dati, le sue statistiche e ha ricevuto dei consigli di ovviamente creare una situazione di un ritorno direi alla fase 2 del Covid-19 e di anche capire essenzialmente che questa ondata, la seconda ondata del Covid-19 è molto seria. Bisogna prendere tutte le cauzioni per eliminarli.